Io sono il supereroe, sono il capo dell'uomo Ho l'ho tipo di lavoro Enjoy Swag Come si dice? Bacini fratellini Non viene mai È difficilissimo Ciao buffu Io non ci riesco a fare tutta cosa Ciao ragazzi, siamo qui, mi stanno preparando. Come va il acquagio? Bellissimo. Buongiorno a tutti, siamo dentro un bar e anche un benzinaio. Cosa si può fare dentro un bar e un benzinaio se non tatuarsi la tartaruga? Faccio quello che voglio perché ho lo suonzo. Facci nei fratellini. No, muco.